Abbiamo lavorato tantissimo per aumentare le nostre capacità, per sviluppare il nostro DNA e cerchiamo di continuare su questa strada. Tante persone hanno pensato che i risultati arrivano così facili, ma come tutti i sport nel mondo c'è un percorso da fare. Ci sono state tante buone cose fatte prima di me, ma quando è arrivato io ho aggiunto certe cose e ho chiesto qualcosa di più agli ragazzi. E sempre quando c'è un cambiamento in gestione ci sono qualche strada da fare. Dall'inizio del 2007 quando sono venuto come allenatore in Italia sempre avevo la sensazione di dare qualcosa indietro per tutto che ho ricevuto. E per me questo rendere un'opportunità di continuare il lavoro che abbiamo cominciato. Devo dire grazie al Presidente Franco Ascione e tutte queste persone che hanno creduto dentro la capacità e che hanno visto quale tipo di contribuzione cerchiamo di portare. Tutti qua che intorno alla squadra e che conoscono il Rugby d'Italia sanno che c'è un sviluppo ancora che deve essere fatto e quello sviluppo è di creare giocatori da livello internazionale. Per tanto tempo abbiamo avuto questi e ultimamente credo ci sono stati tanti giocatori fatti per essere molto competitivi a livello di club. Tutti due i franchici sono molto più competitivi da una volta e adesso dobbiamo fare insieme con loro questo prossimo passo per sviluppare giocatori che saranno anche competitivi a un livello internazionale. Di avere questa opportunità adesso di contribuire e di far crescere questo movimento per me rendere tanto orgoglio. Grazie a tutti.